Jeanne è alle origini del Museo d'Arte di Locarno. Nel 1965 ha donato una grossa parte delle sue opere alla città e ora ha esposto come permanente nelle sale di Casoella che permettono ancora di invitare il giusto risalto, un costo importante artista che mostra le sue sbagliate sfaccettature sia con i difinti, sia con il corlaggio, con questi rilievi e con alcune opere scultore. La città, tu siete voi i Giardini Art presso il Deparcate del Comiscio a Lago in cui si può ovviamente ammirare la parte delle opere tridirezionali dell'artista. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.